Il coenzima Q10, CoQ10, noto anche come ubiquinone, è un elemento essenziale presente in ogni cellula di ogni essere vivente, principalmente nei mitocondri, le centrali elettriche delle nostre cellule. Il CoQ10 è prodotto nel corpo ed è presente in alta concentrazione, principalmente in quegli organi che hanno le più alte richieste energetiche, cuore, fegato e reni. Il problema è che la nostra produzione naturale di CoQ10 va incontro ad un rallentamento con l'invecchiamento, spesso maggiore del 50% a 50 anni. Dopo la nostra giovinezza entriamo in una naturale fase di deprezione. In aggiunta all'invecchiamento, una dieta ed uno stile di vita non sani, così come l'uso di alcuni farmaci soggetti a prescrizione, in particolare le statine, per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue ed altri farmaci da banco, possono contribuire alla deplezione di CoQ10 nel corpo. Il CoQ10 è diventato uno degli integratori più popolari, spesso raccomandato dagli esperti di salute. Ecco tre domande chiave da prendere in considerazione prima di decidere se un integratore di CoQ10 è quello giusto per voi. È di origine naturale? La forma più comune di CoQ10 venduta oggi è di origine sintetica e viene scarsamente assorbita dal corpo umano. Andate alla ricerca di un CoQ10 di origine naturale, con un'attenzione alla maggiore biodisponibilità. È formulato in modo sinergico? Associare al CoQ10 altri importanti nutrienti di supporto, come L-cisteina, polifenoli ed alcuni fitolipidi e steroli è la scelta migliore. È di un'azienda nella quale avete fiducia? Quando si tratta del vostro benessere, la scelta intelligente è di prediligere un'azienda con una storia provata di integrità e di prodotti di qualità. Neolife usa tecnologie biogeniche all'avanguardia per fornire 100 mg di CoQ10 naturale. In una forma altamente biodisponibile e in associazione con un profilo unico di nutrienti partner. E con nulla di artificiale. Nessun colorante, aroma, dolcificante o conservante artificiale aggiunto. Diamo un'occhiata alle caratteristiche esclusive del CoQ10 Neolife. Esclusiva miscela Neolife di fitolipidi e steroli estratti da grani integrali. Fornisce 4 tocotrienoli dal riso ed in aggiunta 4 fitosteroli dalla soia. L-cisteina, l'aminoacido limitante necessario per la biosintesi cellulare di glutatione. Esclusiva miscela Neolife di polifenoli che fornisce polifenoli naturali estratti da alimenti integrali con resveratrolo da uva rossa. Oli vegetali tra cui olio di cocco per esaltare la biodisponibilità. Tecnologia di incapsulamento unica. La digestione inizia in soli 2 minuti promuovendo un rapido assorbimento. CoQ10 Neolife ricarica le tue cellule seguendo il progetto della natura per la nutrizione umana.